Quattro ragazzi in un campeggio in un lago, un'estate splendida e delle birre, la premessa per una vacanza perfetta. Il lago Bodom era un posto magnifico per stare all'aria aperta, ma oggi quel luogo non gode della stessa fama. Oggi tutti conoscono il lago Bodom a causa di un terribile massacro. Ragazzi, buonasera, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. E oggi, non so se avete visto, ho cambiato un po' di cose nello sfondo, c'è anche un nuovo amico, è un corvo, non so se si vede bene. È un corvo che regge una candela e lo chiameremo Umberto. Quindi salutate il vostro amico Umberto e possiamo iniziare. Oggi vi porto in Finlandia per parlarvi appunto del famigerato massacro al lago Bodom. Una storia che sinceramente non avevo mai sentito e che siete stati voi a consigliarmi, quindi grazie. Non ho mai trattato un caso finlandese, devo ammettere che questo in particolare mi ha proprio inquietato e mi ha lasciato con tantissime domande. Si tratta di vicende piuttosto datate e anche per questo ormai sembra quasi una leggenda. In ogni caso sono sicuro che rimarrete spaventati e un po' incazzati oggi. Detto questo iniziamo con il file di oggi. Ci troviamo sulle rive del lago Bodom, un lago finlandese di circa 2-3 km2, situato nelle vicilanze di Espo, a circa 22 km dalla capitale, Helsinki. È un posto splendido e davvero perfetto per chi vuole andare in campeggio. Una fitta foresta circonda il lago e tutto attorno si respira aria pulita. È un luogo suggestivo, specialmente quando tramonta il sole, perché restituisce un'immagine che, stando a chi la vista, è semplicemente perfetta, a tratti malinconica. Sono tantissimi i turisti che ci vanno in vacanza e anche la gente che abita nei paesi vicini bazzica da quelle parti di tanto in tanto. Insomma, è un posto naturale che ispira spensieratezza e allegria. O meglio, una volta era così. Ormai, però, nessuno lo ricorda per queste cose. Anzi, tutti adesso lo descrivono come un luogo spaventoso, in cui bisogna stare attenti e dove non bisogna mai abbassare la guardia. Eppure non è cambiato niente dal passato a livello di paesaggio. I tramonti sono ancora bellissimi, il lago è ancora calmo e suggestivo. È stato questo massacro a cambiare per sempre la reputazione di quel posto paradisiaco. Ma per capire cosa è successo, dobbiamo conoscere i protagonisti di questa storia. Sono Seppo Antero Boisman e Nils Willem Gustafsson. Entrambi diciottenni e migliori amici letteralmente inseparabili già da quando avevano dodici anni. Erano talmente tanto in confidenza che spesso si prendevano a botte per scherzare. Mi piaceva proprio scherzare anche in questi modi, ma si volevano davvero bene. Al momento dei fatti erano entrambi fidanzati con delle ragazze che a loro volta erano amiche e si volevano molto bene tra di loro. Sto parlando di Myla Irmeli Bjorklund, fidanzata con Nils, e Anya Tulikimaki, fidanzata invece con Seppo. Perdonate la pronuncia come al solito, non conosco queste lingue. Comunque le due ragazze avevano entrambe 15 anni e insieme ai loro compagni formavano un gruppo coeso e indivisibile, almeno in teoria. Il sabato 4 giugno 1960 è il giorno perfetto infatti per un'attività tutti insieme all'aria aperta. Fa caldo al punto giusto e il cielo è limpido, per cui i quattro ne approfittano per viaggiare e accamparsi in un luogo sicuro e tranquillo. Nils e Seppo prendono le loro motociclette, caricano le loro rispettive ragazze e partono dalla località di Vanta fino a Oitta, sulle sponde del famoso lago Bodom. È qui che decidono di fermarsi e non potevano scegliere posto migliore. È perfetto per loro, possono rilassarsi pescando, bevendo, piacchierando in modo allegro e anche magari nuotando un po'. Durante le ore più calde della giornata si rilassano e si godono il tempo libero. C'è un'atmosfera davvero felice. A quanto pare, ma non è sicuro, incrociano anche altri villeggiatori che, come loro, erano accampati lì e si stavano godendo la tranquillità del lago. Nell'aria quel giorno non c'è il minimo cenno di tensione. Giunta la sera, ovviamente, i ragazzi devono rintanarsi nelle proprie tende, dunque dopo averle montate si preparano per andare a dormire. Il cielo non è del tutto buio perché da quelle parti, in quel particolare periodo dell'anno, il sole non tramonta proprio del tutto e quindi anche nelle ore più tardi comunque si riesce a vedere qualcosina. Questa circostanza dà ancora più suggestione al lago perché intanto la natura e la fauna lì attorno continuano a dare segnali di vita, almeno fino a un certo punto. Infatti, durante la notte, nell'accampamento dei quattro amici, succede qualcosa. Seppo comincia a sentirsi, diciamo, turbato. Nils se ne accorge subito. Lo conosce fin troppo bene e sa quando il suo migliore amico diventa pensieroso. Sa che non sta attraversando un buon periodo, così lo invita fuori dalla tenda per passare un po' di tempo da soli in riva al lago, lontani dalle ragazze, che intanto erano rimaste al sicuro in tenda. I due quindi pescano un po' e parlano del più o del meno. Seppo però, come vi dicevo, non se la stava passando bene per vari motivi. Aveva appena cominciato un nuovo lavoro come elettricista e probabilmente questo gli stava causando un po' di pressione. Inoltre, il padre della sua ragazza, Ania, non lo approvava. Non era d'accordo sulla loro relazione e anche questo sicuramente gli stava creando un po' d'ansia e preoccupazioni. Il padre di Ania, per esempio, all'inizio non voleva nemmeno che sua figlia andasse al lago con loro. Era un padre un po' all'antica e estremamente protettivo. Tutto questo di sicuro stava dando fastidio a Seppo, che era costretto a farsi andare bene un suocero che non lo sopportava e non voleva vederlo. Nils quella sera cerca di consolarlo come può, ma anche la sua vita non era proprio tutta rosa ai fiori, come poteva sembrare magari dall'esterno. Per fare un esempio, la sua nuova ragazza, Myla, aveva già un fidanzato. Quindi Nils e lei si frequentavano alle spalle. Di certo non era una situazione facile e sicuramente anche moralmente discutibile. I due amici comunque si confrontano parlando prevalentemente di questi problemi e tra una cosa e l'altra bevono anche qualche birra. Parlano anche del loro idolo, Elvis Presley, e facendolo riescono in qualche modo a ritrovare un po' di ottimismo. Dopotutto erano in vacanza. Durante il giorno si erano divertiti tantissimo. Perché doveva andare sorto qualcosa? Perché si stavano preoccupando così delle loro vite? Era un momento in cui potevano staccare da tutto, dovevano rilassarsi, dovevano pensare le cose belle. Nils quindi torna in tenda alle 2.30 del mattino circa. Seppo invece rimane fuori ancora un po' e poi torna verso le 3. Tutto tace. Non si sente più alcun rumore e nessuna voce. Ma dopo un po' arriva qualcuno di completamente inaspettato. A vedere il sole del giorno successivo è soltanto Nils Gustafsson. Si sveglia tardi, quando è ormai pomeriggio. Ma non è solo. È circondato da sconosciuti, persone intente a parlargli e provare ad aiutarlo. Ma non capisce perché. Vede solo una luce abbagliante e delle facce che non conosce. C'è anche un medico. Tra quegli sconosciuti riesce a capire appunto che era un medico. Poi scorge anche qualche infermiera. E persino sua madre. Tutti lo guardano con stupore e anche con preoccupazione. Nils capisce in fretta di non essere più nella sua tenda, ma disteso su un letto d'ospedale. Sente dei fortissimi dolori alla testa, alla faccia e anche in varie altre parti del corpo. In particolare sente un dolore lancinante alla mascella. Gli fa così male che ogni parola che prova a pronunciare è proprio un'agonia. In quel momento non sa perché si trova lì né che cosa sia successo. Ha una profonda amnesia ed è evidentemente traumatizzato. Ha paura. Una paura profonda e viscerale, ma non sa perché. Dopo pochi istanti comincia a ricordare qualcosa, ma vagamente. Ricorda che la notte prima nella tenda aveva visto un uomo sconosciuto con dei grandi occhi, labbra carnose e uno sguardo agghiacciante che non si sarebbe mai dimenticato. Poco altro gli torna alla mente e mentre cerca di spiegare alle persone lì con lui questi vaghi ricordi confusi, gli vengono in mente i suoi amici. Così chiede di loro. Ed è in quel momento che scopre che purtroppo Seppo, Myla e Anya non c'erano più. Erano morti. E Nils era l'unico sopravvissuto al massacro del lago Bodom. Quello fu il risveglio peggiore della sua vita. Appena riacquisisce un minimo di lucidità, gli spiegano tutto quello che è successo. Nils scopre quindi con orrore che tra le 4 e le 6 del mattino, una persona non identificata si era avvicinata alla loro tenda. Questa persona ha poi tagliato i sostegni della tenda, facendola cadere in faccia ai ragazzi, cioè addosso ai ragazzi che dormivano al suo interno. In pratica li ha intrappolati lì dentro. Approfittando dell'occasione ha estratto un coltello, o secondo poi altre ricostruzioni delle pietre, comunque qualche oggetto che avrebbe potuto ferirli. E ha iniziato a colpire alla cieca i 4 ragazzi. Si dice anche che abbia usato un tubo di metallo. Cioè non è sicuro se fosse un coltello, rocce, tubi di metallo, tutti e tre, sicuramente più di uno di questi oggetti. Comunque il medico spiega a Nils che è così che sono stati uccisi i suoi amici e che lui era l'unico sopravvissuto, sicuramente per miracolo. Ogni informazione è come un trauma per lui, eppure il medico non gli aveva detto tutto. Ci sono tanti altri dettagli nel massacro che ancora Nils non sapeva e che scoprirà solo in seguito. Questi dettagli però sono importanti, direi cruciali e anche piuttosto inquietanti. Ben prima che Nils si svegliasse all'ospedale sono successe diverse cose. Per capirle bene dobbiamo tornare un po' indietro nel tempo, prima del risveglio del ragazzo. Verso le 6 del mattino alcuni testimoni stavano facendo bird watching, quando hanno notato la tenda dei ragazzi. Da quella tenda è uscito un uomo. Comunque a partire dalla tenda ha iniziato ad allontanarsi, per andare in un posto che non conoscevano queste persone. Non sono riusciti a distinguere neanche molti dettagli di questo sconosciuto, essendo comunque piuttosto distanti. Tuttavia hanno descritto questa persona come un uomo con i capelli biondi, altezza e corporatura nella media, con indosso pantaloni scuri e una maglia, o una giacca, di colore chiaro. Non hanno avvertito alcun pericolo, comunque non si sono accorti di qualcosa di strano, per cui non hanno chiamato la polizia né hanno chiesto aiuto a qualcuno. Non avevano nessun motivo per farlo. E non avevano idea che dentro quella tenda, caduta su se stessa, si fosse consumato un massacro. Più tardi, lo stesso giorno, sempre prima del risveglio di Nils all'ospedale, ad un pescatore è parso di vedere lo stesso uomo biondo che avevano visto i ragazzi del birdwatching. Poi, verso le 11, un carpentiere di nome Risto Siren, che passava di là, ha visto chiaramente che dentro quella tenda era successo qualcosa di terrificante. Ha notato il sangue, si è avvicinato e ha scoperto i corpi a terra privi di vita. Ed è stato lui a chiamare la polizia. Se fosse passato altro tempo, o se questo Risto non fosse proprio passato di lì, Nils molto probabilmente non sarebbe neanche sopravvissuto. Intorno alle 12 arrivano gli agenti, che si rendono subito conto di avere davanti una scena del crimine piuttosto cruenta, forse la più violenta che avessero mai visto. Sono stati un po' presi alla sprovvista. Seppo e Anya si trovavano sotto il tessuto della tenda. Lui era rivolto di schiena, con evidenti ferite al collo e al petto. I colpi peggiori, quelli mortali, erano stati inferti alla mascella e al cranio, parti del corpo che erano state letteralmente frantumate. Si è poi stabilito che il ragazzo è probabilmente morto soffocato dal suo stesso sangue. Anya invece era accanto a Seppo, in posizione fetale e con la mascella fracassata. Era stata colpita due volte alla testa con un oggetto contundente. Da un esame post-mortem si scoprirà che è rimasta in vita per due o tre ore dopo l'aggressione. Sicuramente ha sofferto tantissimo, poverina. Poi, sopra la tenda, o sempre all'interno a seconda delle fonti, c'era Myla, la vittima che era ridotta peggio. Le sue condizioni erano a dir poco disastrose e sembrava proprio che l'aggressore si fosse accanito tantissimo su di lei, come se fosse stata la sua vittima preferita, anche se non si capiva se ci fosse un effettivo motivo o se fosse un caso. Myla era nuda dalla vita in giù. I suoi pantaloni erano stati abbassati, quasi sfilati del tutto, dato che una gamba era completamente libera mentre l'altra era ancora dentro i pantaloni fino a metà coscia. La ragazza era morta a causa di tre colpi al cranio. Dopo la morte, poi, era stata pugnalata ben 15 volte, sia sul viso che sul collo. Questo accanimento fa riflettere perché per quale motivo il killer si è così tanto concentrato su di lei? L'aveva già uccisa in teoria eppure l'ha colpita altre 15 volte. Lei era la ragazza di Nils, che è sopravvissuto. Quindi molto strano che fosse proprio lei ad essere ridotta peggio. Giusto? Comunque, al momento del ritrovamento, non si sapeva nulla, se non che le tre vittime avevano provato a difendersi. C'erano tracce di ferite da difesa, il che aggiunge ancora più tristezza a tutto questo schifo. I ragazzi avevano provato a divincolarsi, a liberarsi dalla tenda durante il massacro, ma non ci erano riusciti. Nils comunque all'arrivo degli agenti, come sapete, era ancora vivo. Anche le sue ferite, però, erano molto gravi. Si trovava sopra il corpo di Myla e aveva delle mosche che gli ronzavano attorno alla faccia. Anche lui aveva ricevuto un forte colpo alla nuca, che gli aveva provocato una commozione cerebrale. La sua mascella era rotta e aveva un profondo taglio alla guancia che gliel'aveva aperta. Non oso immaginare il dolore, cioè. Ma come se non bastasse, era stato colpito così forte alla testa che dal naso, dal naso, gli stava uscendo del liquido cerebrospinale. Anche lui ovviamente aveva provato a difendersi, ma era in condizioni davvero atroci. Sempre quella mattina, prima del risveglio di Nils, gli investigatori hanno trovato il diario di Myla, accartocciato e macchiato di sangue. A suo interno c'erano scritte più o meno quattro cose. La prima era campeggio al lago Bodom. La seconda, Seppo e Nils sono ubriachi. La terza, sveglia le due di notte. E la quarta, Seppo sta pescando. Anche se in altri articoli online dicono che ci fosse scritto Seppo è nella foresta. Comunque questa è una prova che dimostra che i ragazzi stavano bene, almeno fino alle due di notte. Ed è quindi da lì in poi che è accaduto qualcosa. Oltre a questo viene trovata anche una federa di cuscino sospetta. Si trovava accanto alla tenda, arrotolata con degli elastici e drammacchiata di sangue. Ma c'erano anche delle tracce di liquido seminale. Il sangue ovviamente venne ispezionato ed emersa che si trattava di un mix appartenente a più persone. Mentre per il liquido seminale si stabilì che non apparteneva a nessuno dei ragazzi. Questo ritrovamento fa riflettere non poco gli agenti, perché era la prova che qualcun altro fosse lì con loro quella notte. Eppure forse non si trattava di una prova così schiacciante. Poteva essere semplicemente una cosa lasciata lì da altri visitatori. Oppure anche se non è molto verosimile, qualcuno poteva averla piazzata lì apposta per depistare le indagini. Gli investigatori comunque notano anche altre cose strane, come per esempio la mancanza di alcuni effetti personali dei ragazzi. Era sparita la giacca di pelle di Seppo, ma anche tutti i loro portafogli, le loro carte di identità e le chiavi delle due moto. Le moto però erano al loro posto, non erano state rubate. Davvero molto strano. Dopo altre ricerche, vengono anche trovate le scarpe di Nils, ma a 500 metri dalla tenda, nascoste sotto un cespuglio. Insomma, i ritrovamenti dei ragazzi danno il via ad un caso decisamente enigmatico e intricato. Gli agenti notano troppe cose molto sospette, anche già al primo sguardo alla scena del crimine. E tutti questi dettagli fanno ipotizzare diverse piste. Una delle prime, direi la più strana, ma al tempo stesso la più credibile in quel momento, era che fosse Nils, lo spietato killer. Ma anche lui era ridotto male. Possibile che si fosse inferto quelle ferite da solo? E gli oggetti rubati? Non poteva essere stato lui. Eppure la sua ragazza era stata uccisa nella maniera più brutale e lui era sopra il suo corpo. Magari era stato lui, insieme a un complice, il quale poi per qualche motivo si è rivoltato anche contro Nils e ha deciso di ucciderlo senza però riuscirci. Per il momento queste sono solo ipotesi, senza alcuna prova. Al di là delle domande e delle normalissime speculazioni iniziali, le indagini non vanno nel migliore dei modi. Nils intanto si riprende molto lentamente in ospedale, ma comincia a stare decisamente meglio. I detective tuttavia non svolgono il loro lavoro in maniera impeccabile. È probabile che uno dei motivi per cui alcune prove vennero trovate in posti all'apparenza casuali, come le scarpe di Nils, fosse la disorganizzazione delle ricerche. Mi spiego. Una volta rinvenuti i corpi e portato via Nils all'ospedale, gli agenti non hanno delimitato l'area e molti curiosi, gente comune e giornalisti, hanno letteralmente calpestato la scena del crimine. Vi ricordo poi che siamo negli anni 60, per cui certe tecnologie non c'erano, non esistevano proprio e anche il modo di svolgere le indagini di questo tipo era diverso e potremmo definirla adesso obsoleto, ma di sicuro si poteva fare di meglio di così. Si crede infatti che molti curiosi abbiano portato via qualche oggetto importante come souvenir, oppure che abbiano toccato e quindi contaminato diversi oggetti sulla scena. Banalmente anche solo calpestare un filo d'erba attorno alla tenda sarebbe potuto essere compromettente, quindi immaginate il disastro che ne è risultato. Una volta messo tutto nero su bianco, gli agenti hanno capito di non essere minimamente pronti per un caso come questo. Forse perché inesperti, o perché in effetti era un caso senza precedenti. Pensate che non hanno nemmeno raccolto il DNA delle vittime e di Nils. Il test del DNA però in effetti non esisteva ancora. Comunque gli oggetti spariti dalla scena non verranno mai più ritrovati. E a parte il ritrovamento di qualche foto e l'avvio di qualche analisi forense, viene fatto poco altro. Piuttosto, da quel momento, i detective decidono di concentrarsi molto su Nils e insistono sulla sua versione dei fatti. Gli fanno domande su quella notte e specialmente provano a fargli ricordare i più dettagli sull'uomo che aveva visto, sperando potessero coincidere con le dichiarazioni dei testimoni oculari di quella mattina. Purtroppo non riescono ad ottenere un identikit chiaro e preciso, così scelgono di seguire un'altra strada, un approccio un po' diverso, sperimentale e molto controverso. Provano ad ipnotizzare Nils. In questo modo speravano potesse ricordare meglio. E nonostante tutte le controversie sull'ipnosi e sulla sua efficacia, effettivamente Nils dice qualcosa di interessante. Quello che state vedendo è lo sketch di un identikit che è sostanzialmente il risultato di questa ipnosi. Come vedete è abbastanza inquietante e in effetti corrisponde sia alla descrizione che aveva dato Nils in precedenza, sia alle dichiarazioni dei testimoni. Ma quanto può essere attendibile? Possiamo fidarci di quello che ha detto il ragazzo sotto ipnosi? Diciamo che questo è solo uno dei tanti misteri di questa storia. Ma malgrado tutto, l'identikit viene preso in forte considerazione, anche perché aveva una certa somiglianza con qualcuno. Infatti nonostante l'indagine a dir poco, non lo so, scarsa, vengono infine trovate delle persone potenzialmente coinvolte e che quindi vengono interrogate. Sono quattro in tutto. Cinque, se contiamo anche Nils e i sospetti che c'erano su di lui, ma di lui parleremo più avanti. Il primo sospetto è un uomo definito burbero, arrogante e pericoloso, di nome Karl Waldemar Gilstrom, di 51 anni. L'uomo lavorava a circa 800 metri dalla scena del crimine, gestiva un chiosco di bibite nel campeggio ed era praticamente odiato da tutti. Il suo carattere infatti era scorbutico e davvero arrogante. Per qualche motivo che nessuno conosce, odiava il rumore, la confusione e addirittura i campeggiatori che erano i suoi clienti. Era noto nella zona perché ogni tanto tagliava letteralmente le tende dei turisti usando il suo coltello, coltello che tra l'altro portava sempre con sé. Odiava anche i ciclisti e spesso tirava loro dei sassi per farli cadere e dirgli di allontanarsi. Ma odiava soprattutto i ladri o presunti tali. Infatti Karl in passato aveva sparato a due persone perché avevano osato guidare lungo la strada che conduceva a casa sua. Pensava volessero derubarlo. Insomma, l'isteria, le manie del controllo e l'ossessione facevano di Karl uno dei peggiori uomini da incontrare al lago Bodom e per questi motivi fu facile sospettare di lui dopo quello che era successo ai quattro ragazzi. Il suo movente a questo punto poteva anche essere irrilevante, dal momento che stiamo parlando di uno psicopatico a tutti gli effetti. In più, si sarebbe spiegato anche il motivo per cui il killer si era accanito così tanto su Myla, perché magari la ragazza stava semplicemente facendo più casino rispetto agli altri durante l'omicidio e quindi lui ci si è accanito. Si scoprì comunque che Seppo, una delle vittime, era andato nel suo chiosco a comprare qualcosa. Era stato servito dalla moglie di Karl e lei prontamente aveva riferito al marito l'arrivo di Seppo e dei suoi amici. E vi ricordo, Karl odiava i campeggiatori, nonostante fossero i suoi clienti di punta. Il giorno dopo poi, quando vennero scoperti i corpi, un uomo si era presentato al suo chiosco per raccontargli dell'agghiacciante massacro e Karl non fece una piega, non battè ciglio. Quello stesso giorno l'uomo andò nella sua proprietà e sigillò il suo vecchio pozzo. Molto sospetto, dato che sarebbe stato il luogo proprio ideale per nascondere delle prove o magari degli oggetti personali dei ragazzi, ok? L'uomo ovviamente viene interrogato dalla polizia per via di tutti questi sospetti e durante l'interrogatorio mostra un comportamento sempre scorbutico, arrogante. Gli investigatori capiscono subito che in lui c'è qualcosa che non va, ma sua moglie, inaspettatamente, lo difende. I due si odiavano, lui non la trattava affatto con amore e rispetto, per cui la donna non avrebbe avuto nessun motivo per difenderlo. Eppure gli procura un alibi, dicendo alla polizia che durante l'aggressione i due stavano semplicemente e tranquillamente dormendo in casa loro. Racconta anche che lei ha il sonno leggero e quindi se Carl fosse uscito per compiere l'omicidio lo avrebbe sentito. Questa dichiarazione ovviamente lascia il tempo che trova perché poteva benissimo essere falsa. Tuttavia le ispezioni nella proprietà dei due si concludono senza alcuna prova contro Carl. Inoltre il 6 giugno, un giorno dopo il massacro, venne scattata questa foto che mostra Carl senza maglietta. Sul suo corpo non c'è nemmeno un graffio, il che rende improbabile che fosse lui l'assassino. Nel corso degli anni seguenti comunque l'uomo disse ad alcuni suoi amici di aver ucciso i ragazzi. Ma nonostante questo le forze dell'ordine constatarono che le sue dichiarazioni erano infondate e da considerarsi false. Nel 1969, nove anni dopo il massacro, Carl annegò nel lago Bodom, probabilmente si tolse la vita. Insomma i sospetti su di lui sebbene fondati all'epoca non portarono a nulla. Torniamo quindi di nuovo indietro nel tempo, quando ancora le investigazioni di cui vi ho parlato erano appena cominciate. È il 13 giugno del 1960, giorno in cui si celebrano i funerali dei ragazzi. È un momento davvero tristissimo, anche perché la notizia aveva fatto uno shock e uno scalpore mai visti. Sono in molti a seguire il corteo funebre e tra la folla c'è qualcuno di parecchio strano. Come vedete da questa foto scattata ai funerali, quest'uomo somiglia molto all'identikit formato grazie alle testimonianze di Nils. Pare però che durante la cerimonia nessuno si fosse accorto della sua presenza. Davvero strano. Dopo aver visto questa fotografia, molte persone si sono convinte del fatto che fosse proprio lui il killer e sono addirittura riuscite a risalire al nome e cognome di un uomo che somigliava a quello che si vede nello scatto. Quest'uomo sarà il secondo sospettato, l'immigrato tedesco Hans Asman. Hans viveva in una piccola casa con sua moglie a poco meno di 5 km dal lago Bodom. Il giorno dopo il massacro l'uomo era stato ricoverato in un ospedale nella capitale, Helsinki, lamentando un forte mal di stomaco. Appena arrivò lì, perse i sensi. Il medico però notò che l'uomo si stava sforzando a tenere gli occhi chiusi, quindi pensò ovviamente che stesse fingendo per qualche motivo e provò a fargli il solletico. Lui in risposta si svegliò subito e cominciò ad inveire contro il personale medico minacciandoli e ordinando loro di curarlo. Agli occhi delle persone lì presenti era un tipo piuttosto squilibrato. Aveva anche le unghie sporche e le scarpe incrostate di fango, ma come se già non fosse abbastanza. I suoi vestiti avevano anche varie macchie rosse. In tantissimi, dopo che la foto del funerale era venuta alla luce, hanno cominciato a pensare che fosse lui il colpevole. Anche perché, altra cosa sospetta, una volta che l'identikit venne diffuso ovunque, Hans si tagliò i capelli, presumibilmente per non assomigliare al ritratto della polizia. Anche la sua storia e le sue informazioni sono piuttosto enigmatiche. Ci sono una marea di voci contrastanti sul suo conto e pochissime informazioni sembrano attendibili. Stando ad una fonte che ho trovato online, l'uomo aveva prestato servizio militare durante la seconda guerra mondiale e probabilmente era una delle guardie del famigerato campo di concentramento di Auschwitz. Poi ci sono altre voci su di lui che sostengono che fosse un prigioniero e un membro del KGB, ovvero i servizi segreti russi. Nonostante il suo passato enigmatico e le cose sospette sul suo conto al momento delle indagini, non ci fu modo di accusarlo formalmente. Anche nel suo caso non c'erano delle prove concrete. Poi ovviamente per via degli anni in cui è accaduto tutto, il suo DNA non è stato prelevato e non è stato fatto nessun test di nessun tipo. Inoltre, Hans aveva un alibi. Il giorno del delitto si trovava ad Helsinki, dalla sua amante, e anche un suo familiare confermò questa cosa agli agenti. Nonostante tutto, prima di morire confessò un altro delitto avvenuto in Finlandia, ma non ha mai fatto cenno al caso del lago Bodom e venne constatato che non c'entrava nulla neanche con l'omicidio che diceva. Qualcuno quindi crede che fosse solo un bugiardo, un mitomane, ma altri pensano che aveva tanti segreti da nascondere e lo ritengono irresponsabile dell'inquietante massacro. In ogni caso, qualora avesse dei segreti, se li ha portati nella tomba. Un altro uomo nel radar degli investigatori era un sospetto conosciuto col nome Kivitascu, un uomo sulla ventina, noto perché girava con la federa di un cuscino imbottita con delle pietre che usava contro le persone che non gli andavano a genio. Ovviamente viene preso in considerazione per via della federa di cuscino sporca di sangue trovata vicino alla scena del crimine. Se ricordate, quella federa non apparteneva a nessuno dei ragazzi né ad altri sospetti, e dal momento che aveva macchia di sangue e liquido seminale si pensava che potesse appartenere proprio a questo Kivitascu. Ma ancora una volta nessuna prova effettiva riesce ad incriminare quest'uomo misterioso, di cui si facendo solo in pochi articoli, tra l'altro. Gli investigatori a questo punto sono disperati. Pensano ad ogni possibile pista, come anche al fidanzato di Myla. Ricordate che lei e Nils si frequentavano alle spalle di questo tizio. Ecco, essendo il delitto di natura probabilmente, anzi quasi sicuramente passionale, e vedendo come era stata trattata Myla, era in effetti possibile che il fidanzato potesse essere il colpevole. Ma perché avrebbe lasciato in vita Nils? Avrebbe dovuto far fuori anche lui, no? E perché prendersela di più con la ragazza? Ma vabbè, sebbene in questo caso c'era in effetti un movente, non c'era comunque nessuna prova che collegassi il ragazzo al delitto. Anche perché lui non aveva fisicamente a disposizione nessun mezzo di trasporto per spostarsi e arrivare fino al lago, quando è successo il massacro. Tutte quelle che vi ho appena detto, quindi, non sono vere e proprie piste. Più che altro si tratta di speculazioni, teorie, idee che si fanno gli agenti. Ma che cosa è successo veramente quella notte? Per decenni questa domanda non ha trovato risposta. E a dire la verità, una risposta non ce l'ha nemmeno ora. Ed è questo il motivo per cui il caso è diventato così famoso. Perché nessuna delle domande, dei dubbi, degli enigmi ha mai trovato una risoluzione. Nel 2004 però, i poliziotti finlandesi provano di nuovo a cambiare le sorti di questo massacro, al fine di rendere giustizia ai poveri ragazzi. Alla fine del marzo del 2004, quasi 44 anni dopo gli eventi, Nils Gustafsson viene arrestato con l'accusa di omicidio plurimo. Nel 2004 Nils aveva 62 anni e si era ormai lasciato alle spalle questa storia, o almeno ci aveva approvato. Entrati nel nuovo millennio però, nuovi investigatori si sono interessati al caso, cercando di riparare il casino fatto dagli investigatori negli anni 60. Questa volta sono determinati a risolvere il caso, anche servendosi delle moderne tecnologie come il rilevamento del DNA. Credono finalmente di poter incastrare Nils come responsabile del massacro. Tutti gli altri sospetti nel 2004 erano già morti, l'unico ancora in vita era lui, e dopo aver raccolto tutta una serie di presunte prove, viene portato al processo. Il caso, dopo anni e anni di vuoto, viene portato alla luce e il mondo intero comincia di nuovo a parlarne. I media riportano ogni sospetto riguardo Nils, dando quasi per scontato che fosse per forza lui il colpevole. Questo danneggia inevitabilmente la sua immagine e la sua reputazione. Infatti l'uomo finisce per perdere il lavoro e trovarsi sostanzialmente odiato da tutti. Ma quali erano queste nuove prove? E erano davvero così schiaccianti e incriminanti. Le accuse contro Nils ora sono molto gravi e, a differenza degli anni 60, sono dimostrabili, almeno secondo l'accusa. L'uomo quindi passa circa un anno in galera in attesa del processo, per poi essere portato in aula il 4 agosto del 2005. Lì vengono mostrate alcune delle vecchie prove del caso che, per miracolo, non erano sparite o non si erano deteriorate eccessivamente. Oltre a ciò, vengono portate in aula le scarpe che aveva Nils in quel momento, quelle che furono trovate a 500 metri di distanza dalla tenda. Ecco, queste scarpe vennero esaminate con le nuove tecnologie e un test del DNA dimostrò che gli schizzi di sangue, presenti sulle scarpe, appartenevano ad Ania. Ma cosa decisamente più strana e importante, su di esse non era presente il DNA di Nils. Stranissimo, erano le sue scarpe e anche lui perdeva un sacco di sangue quando è stato ritrovato. Comunque venne anche constatato che per via del fatto che il sangue era presente solo all'esterno delle scarpe, chiunque avesse commesso i delitti le stava indossando durante l'atto. Viene anche fatto notare che l'amnesia di Nils al momento dei fatti era poco credibile. Degli esperti hanno spiegato che le sue ferite avrebbero sì potuto causare una perdita di memoria nel breve periodo, ma in nessun modo avrebbero causato una perdita permanente, come è stato poi per lui alla fine. E infine delle persone testimoniano contro di lui. Una di queste è una donna che racconta solo in quel momento che quella notte, mentre anche lei si trovava in campeggio al lago Bodom, aveva visto Nils litigare con Seppo. Davvero assurdo che lo racconti solo 44 anni dopo gli eventi, no? Cioè sarebbe stata una testimonianza importante al momento dei fatti. Eppure ha deciso di parlarne solo adesso, in questo nuovo processo. Comunque, altri testimoni confermano in un modo o nell'altro che Nils ce l'aveva con Seppo e che avrebbe avuto un movente di gelosia. Stando a queste accuse, infatti, Nils avrebbe voluto uccidere solo la sua fidanzata Myla e gli altri, Seppo e Anya, erano solo d'intralcio. Testimoni da far sparire. È una versione verosimile dei fatti, ma le prove sono comunque scarse. La questione delle scarpe è senz'altro sospetta, ma non dimostra per forza che sia stato Nils ad uccidere tutti e tre i suoi amici. La sua difesa al processo dice che le scarpe di Nils erano fuori dalla tenda quando sono andati a dormire, per cui chiunque avrebbe potuto indossarle e poi compiere il massacro. E ok, ma come mai ci sono solo schizzi di sangue di Anya? Questo fa pensare comunque che l'unico possibile responsabile fosse lui. Eppure se fosse stato davvero Nils ad uccidere tutti e a lasciare le sue stesse scarpe a 500 metri dalla tenda, perché i suoi calzini non erano sporchi? Avrebbe dovuto sporcarsi un bel po' mentre tornava alla tenda, invece erano totalmente puliti. E poi come avrebbe fatto ad autoprocurarsi quelle ferite così tanto gravi al volto? Cioè non c'era nessun'arma del delitto lì, per cui l'ipotesi dell'accusa che sosteneva che avesse semplicemente sbattuto la testa contro una roccia, o un albero di proposito, non reggeva. Vi ricordo che aveva un taglio che gli aveva trapassato la guancia? Cioè. E poi ci sono gli oggetti rubati. Per quale motivo Nils avrebbe dovuto rubarli? E se non li ha rubati, dove li ha nascosti? E perché? Molte cose non avevano senso, davvero. E infatti l'accusa si trova parecchio in difficoltà in questo processo. Non c'erano prove fisiche che collegassero Nils al massacro. Certo c'erano dei dettagli sospetti, ma fino a prova contraria. Siamo tutti innocenti. Insomma, l'ipotesi che vede Nils come colpevole comincia presto a perdere credibilità. Inoltre, la donna che aveva detto di aver visto Nils e Seppo litigare quella sera si rivela essere una bugiarda. Anche un'altra testimone si rivela una bugiarda, che aveva fatto tutto questo solo per pubblicità personale. Le altre testimonianze si dimostrano fallaci, per cui l'accusa si ritrova con un pugno di mosche. Ripeto, non c'erano prove fisiche che collegassero Nils al massacro. La giuria infatti stabilisce che le prove presentate contro Nils erano inconcludenti, e il presunto movente lo considerano speculativo. E così, il 7 ottobre del 2005, Nils Gustafsson viene assolto da ogni accusa. Il pubblico ministero non presenta appello, così la sentenza di assoluzione diventa definitiva. La Repubblica di Finlandia dovrà versare 44.900 euro come risarcimento per i danni morali e psichici subiti da Nils a causa del processo. Tuttavia, l'uomo non potrà denunciare i media che hanno parlato male di lui. Una magra consolazione comunque, considerando i traumi che quest'uomo è stato costretto a vivere e portarsi dietro sia quando era ragazzo durante il massacro, che al processo poi a 60 passanni. Da quel giorno comunque, niente. Il caso è rimasto irrisolto. Per la legge Nils è innocente. Ovviamente ci sono molte cose che non quadrano, tanti misteri risolti. Cioè, questo caso è davvero uno dei più misteriosi che abbia mai sentito. Che cavolo è stato davvero a fare tutto questo e perché soprattutto? Secondo me, potrebbe verosimilmente essere uno dei sospettati di cui vi ho parlato, ma sono morti. E il loro DNA non era stato prelevato, non erano state fatte le accurate indagini, insomma. Boh, cioè, cavolo, più si pensa a questa storia e più vengono domande. È assurdo. Comunque, nel 2016 è uscito il film Lake Bodom che si basa sulla storia del caso, ma poi verte su tutt'altra trama e personaggi. Non è un documentario, è solo basato sui fatti. In ogni caso, questa storia assurda viene ancora discussa online, se ne parla tantissimo e, devo dire, anche un po' in Italia. In effetti non è un male diffondere questa storia perché magari, parlandone, si spinge chi di dovere a fare ulteriori indagini e chissà, magari a scoprire finalmente qualcosa. Oggi, senza dubbio, le tecnologie sono migliorate rispetto ai primi anni del 2000. Magari potrebbe esserci il modo di scoprire qualcosa di nuovo. Speriamo davvero, comunque, che prima o poi si risolva. Spero, appunto, ecco, di aggiornarvi su questo caso, magari con uno short, quando si risolverà? Se si risolverà, speriamo di sì. Questo comunque era tutto ciò che avevo da dirvi su questa vicenda. Io sono davvero curioso di leggere le vostre teorie perché oggi, di più rispetto agli altri casi, c'è tanto su cui discutere. Tante domande a cui rispondere, quindi aspetto le vostre risposte. Intanto, ai pochissimi che rimangono fino a qui, anticipo che presto parleremo della storia di una donna che, per un motivo non chiarissimo, ha dovuto passare 12 anni di inferno. Un inferno però familiare, quasi confortevole all'inizio, che si è però trasformato in qualcosa che, a definire terribile, sarebbe riduttivo. Spero quindi che rimarrete nei paraggi, per cui se vi ho incuriositi, ricordate di massacrare il pulsante iscriviti. E adesso parlo con te. Sì, proprio con te. Se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare, ti consiglio questa storia da brividi, oppure questa playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo. Vi ricordo infine di seguirmi anche su Instagram, se volete farvi i cazzi miei. E niente, vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì, con un altro profile. Ciao!